No Rebby non è di qua dai dov'è pensa pensa dall'altra parte a sinistra a sinistra lì a sinistra No lì si va di sopra Non andare di fuori di fuori sicuro non apriamo niente Eccoci Guarda che roba Abbiamo anche le trappole Vai 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 ci piace Proviamo si Ci provo Vai Vai la rosa era lì dentro Scappa scappa Apriamo la rosa Ciao a tutti ragazzi siamo Rebby e Molly E dove siamo finiti Siamo qui su Roblox oggi Rebby perché oggi dobbiamo diventare dei serpenti oppure dobbiamo scappare dal serpente cattivo Ok io spererei nella prima perché altrimenti se diventiamo cioè se dobbiamo scappare dal serpente qua sotto è dura È dura è veramente dura questa per ora è la lobby Ma che cosa è quella roba verde Sicuramente sono caccole avariate E veleno magari Caccole di serpente Che schifo Quindi mi raccomando voi lasciate tantissimi mi piace a questo video iscrivetevi al canale che dobbiamo arrivare a Un milione Forza ragazzi che aspettate Ok quindi adesso aspettiamo di diventare il serpente Allora Rebby abbiamo il 33% Di diventare il serpente Di diventare il serpente quindi per favore Però guarda mancano 8 secondi lo scopriremo Attenzione Vediamo vediamo per favore per favore Oh mamma Il serpente è te Sembra quando giocavamo ad Among Us che non sapevamo se eravamo Attenzione Vediamo Ok nella casa Siamo in una casa No Non siamo noi Non siamo noi Allora Bob Bob cammina Che bella nottata per una camminata Va bene Ma insomma Insomma No Bob Che cos'è questo rumore? Bob Oh mamma Ha detto che andrà a controllare questo qui No 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 È fatto È pericoloso No 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 Forse diventa lei No L'hanno presa Diventa lei il serpente Il serpente No non siamo noi Abbiamo 7 minuti per scappare No 8 quasi No Rebby Vai scappiamo C'è scritto exit di là Cosa entri? Eh ma no è chiuso Usciamo Ma che chiuso Ok aspetta I soldi I soldi La chiave Ok Ok Rebby se vedi un serpente Dimmelo Ok va bene Però dovremmo scappare di qui Noi siamo entrati proprio in casa Ok però un attimo C'è bisogna cercare tutte le chiavi Per aprire le porte Vai apri quella Questa Si può aprire Ok l'ho aperta Bello Soldi 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 E adesso cosa facciamo Aspetta ma vedo qualcosa là Scappa lei Hai detto che lei è diventata No perché le va incontro No infatti dove vado Scappa Allora Adesso scappa un attimo Mamma Prendiamo sta chiave No lui perché Mi ha preso subito Così Avevamo sette minuti E in due minuti Ci ha preso Fantastico Abbiamo già perso No Cioè guarda Abbiamo perso tutti Ma è stata È stata velocissima Cioè guarda l'ha già mangiato Sto mangiando tutti Ha catturato tutti i giocatori Cioè abbiamo finito il gioco In due minuti abbiamo finito il gioco Il serpente sta già divorati È stata forte È stata forte Bisogna dirlo Comunque adesso abbiamo il 40% di possibilità 40% Te la smetti di andare nelle fogne Eh che bello È cambiare Che schifo dai 9 8 7 6 Ragazzi Oh mamma Abbiamo il 40% Forse No va bene Anche metà Vediamo Secondo me non siamo noi 50% adesso Eh ma perché Se ne sono andati No è impossibile Siamo sempre noi tre Oh forse siamo noi No secondo me è Venom questa volta Secondo me Guarda Allora secondo me questa volta lo diventerà quello col fuoco Quello col fuoco Sì Non lo so secondo me Dai noi 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 per favore Ti prego Attento Eccolo col fuoco Eccolo col fuoco Avevi ragione Hai ragione Ci ho preso eh Cioè quindi per forza chi va lì diventa il serpente Allora attenzione Sì è il serpente Ok l'ha preso L'hanno mangiato L'hanno mangiato Scappa E anche questa volta Avevi ragione Rebby Aveva ragione Vedi il mio sesto senso Non sbaglia mai Allora vediamo Questa che colore è È blu È blu È blu Vai safe key Prova ad andare di sopra eh Oh mamma È difficile sto gioco Rebby Molto difficile Chi è che è entrato Chi è che è entrato Un nappo Ok no è uno di noi Ok entriamo qui Sta chiave non si può usare Perché vedi il lucchetto è blu Allora è verde la nostra No la nostra è grisa Ok Allora dove andiamo Dov'è il serpente Forse lì No Avete visto il serpente No di fuori è pericoloso Eh lo so Lo so Attenzione Dobbiamo durare più di prima eh Dobbiamo durare più di prima Prima non siamo durati neanche 30 secondi Ah qua c'è la dinamite per scappare Oh stai attento Oh stai attento se vedi il serpente Non lo vedo Voi lo vedete ragazzi Mi raccomando Scrivetecelo su È lì È lì No l'ha preso L'ha preso Scappa Mi nascondo Mi nascondo che non mi vede Ok nasconditi qui Sta uscendo Mi sa che sta uscendo Vuole uscire Sto uscendo T'ha visto Scappa Sto scappando Sto scappando Scappa scappa No non fermarti T'ha visto T'ha visto Vado via Vado via Vado via Vado via Entriamo in una stanza Vedi che lui può passare da sotto Lo so Lo so Vai entra 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 Da qualche parte Aspetta lo sto aspettando Perché lo aspetti che poi ti mangia Non mi mangia Ma qui le chiavi non vanno bene Attenzione Provo ad andare qua sotto Non mi sembra di vederlo Ok Attenzione ragazzi Mi sta rendendo ansia Lo vedi Non lo vedo E neanch'io lo vedo Dov'è Piano Io entrerei in una stanza E mi chiuderei lì Perché non lo vedo Perché si è nascosto Andiamo fuori Ma questa chiave Rosa Comunque mancano 6 minuti Ok Chiave rosa messa Eh ma 6 minuti Se noi non usciamo Entro 6 minuti Abbiamo perso No davvero No E se lui non ti prende Entro 6 minuti Fidati di me Dove No È lì È lì No Non si ha visto No 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 Non si ha visto 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 Non è che siamo Siamo rimasti solo noi No è una trappola No no Rebi 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 Dai abbiamo 5 minuti Chiave è questa Chiave è questa No Scappa 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 No aiuto Scappa Ci ha visto Adesso esce di lì Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Oh no Oh no Oh no 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 Ancora 5 minuti Aiuto Non ce la facciamo a resistere per 5 minuti Me lo sento Sta venendo su uno No non è venuto su Dov'è la chiave zalla È arancione innanzitutto Era di sotto secondo me Di sotto andiamo qua Dov'è Di là Nella sala secondo me Dov'è 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 questa chiave Era nella sala No Rebi non è di qua Dai dov'è Pensa Pensa Dov'è Sinistra Lì a sinistra No lì si va di sopra Non andare di fuori Di fuori Sicuro non apriamo niente Oh mio dio No dai scappiamo Ma prima se l'avevamo fatta Ah la chiave zalla non si deve più usare Perché hanno aperto tutto Oh mamma Comunque siamo rimasti solo noi contro di lui Esatto E tra 5 minuti potremmo vincere Ma che potremmo vincere Abbiamo perso Non è vero Non abbiamo perso Dobbiamo scappare da lui Hai capito Guarda se lo vedi dentro le finestre Sì è lì Aiutateci No Perché va così forte Corri Perché va così forte Corri Sto correndo più veloce che posso Oh mamma Allora Secondo me funziona così Se noi riusciamo a scappare Poi abbiamo vinto Vabbè direi eh Eh ma hai 4 minuti ancora da sopravvivere Devi rimanere salvo per 4 minuti No E t'ha visto Perfetto Forse lì c'era una chiave Attenzione Ma perché con queste chiavi Non ti servono le chiavi Sì servono le chiavi per aprire le porte Devi solo sopravvivere Ma non devo sopravvivere Ah di sopra come erano i colori Eh non me lo ricordo I colori dei lucchetti Reby Perché serve la dinamite Ma la dinamite è chiusa La dinamite era di sotto Vediamolo Non è che qua Sì però non vale stare lì Non t'ha visto Non t'ha visto T'ha visto Scendi Non vale stare lì Non vale stare lì Resisti 3 minuti Che voglio vedere che cosa succede Ma succede che abbiamo perso Non è vero Secondo me Se riusciamo a scappare Ancora abbiamo vinto Eccola la chiave Dai forse Dovevi vedere cosa succedeva Dai Guarda tutte le skin dei serpenti Uh bello però 60% serpente Oh se stavolta non diventiamo noi Non lo so Secondo me è lui questa volta Dai per favore Eh abbiamo il 60% ma non lo so Oh finalmente Siamo il serpente Abbiamo il 20% di chance Siamo il serpente Oh che cosa succede? Siamo noi Eccoci Siamo noi Guarda che roba Adesso Abbiamo anche le trappole Uh vai 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 Ci piace Eccoci qua Ci siamo Andiamo a cercare tutti i nostri avversari Ah ma ce n'è solo uno Allora mettiamo Sì Mettiamo una trappola qua No poverino Dove ti sei cacciato Vediamo un po' Non puoi una trappola anche qui Non ti puoi nascondere Dov'è? Attenzione Dove è andato? È sicuramente entrato da qua Entrato? È entrato da qui Secondo me è dall'altra parte Se era la porta aperta Mettigli una trappola davanti alla porta Eccolo Eccolo Sì Abbiamo preso Venome Adesso Abbiamo vinto Ma davvero? Sì eravamo in due Dai No Ecco dai guarda adesso siamo in quattro Eh ma adesso abbiamo il 16% di diventare Sì ma infatti dai Volevo durare di più da serpente Dai Si potrebbe bustare No non bustiamo Smettiamo di scioppare abbiamo già fatto troppi danni Allora vediamo chi sarà il serpente Ma c'è uno senza capelli Ma siamo tantissimi poi Siamo tantissimi stavolta Attenzione Chi sarà Dai noi 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 No è Bacon Dai No è Venom È Venom Ma che Venom? Ma dove lo vedi Venom? Si è scritto Venom Ah vabbè si chiama Venom Lui di nome Eh si chiama Venom Sì E il personaggio è Bacon Attenzione Perché i capelli sembrano il Bacon Ma è vero Ma è così E' Roblox E' terribile questa cosa Ma è così Andiamo ragazzi Va bene forza Tutte le chiavi Dove sono? Perché lì prima c'era una chiave Adesso non c'è più? Eh non lo so Allora qua non c'è mai una chiave E hanno spostate Quella ad oro Dov'è quella ad oro? Dai fate qualcosa Allora Dove dobbiamo andare? Intanto ricordiamoci il colore Colore infatti Allora Reby Di sopra ricordati E il blu è verde Blu è verde Ma è lì c'è la blu C'è una E' blu? No non è blu E' grisa E' grisa Però ricordatelo eh Ok blu è verde di sopra Blu è verde di sopra Ti si è aperta la porta in faccia Qua andiamo Le monetine però dovevi prendere Con calma Serpente Oh scappa scappa Mi sono impigliato No Hai preso la trappola? Aspetta Allora questa Gialla Gialla dove era? L'avevamo vista però gialla È lì è lì Scappa 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 È lì È lì Lo vedo Non mi ha visto 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 Nabbo Vai è gialla Ok gialla No 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 Bacon Bacon Attenzione Allora T'ha visto? No non t'ha visto Prendiamo delle monetine Perfetto Allora bisogna trovare le altre chiavi Robi Va bene allora Gialla e Cos'era azzurra di sopra No come non ti ricordi? Qui c'è quella rosa Avevi solo un compito Allora Qui c'è quella rosa Avevi solo un compito Eh, va bene, sono in ansia per il serpente Ok, è lì, è lì, non si ha visto Oh, è blu, è blu, vai di sopra L'ho presa Vai Di sopra? Di sopra Oh, è di sopra Ti ricordi, eh? Sì, sì, mi ricordo che è di sopra Se perdiamo Non perdiamo Mi sembra anche molto scarso, eh, sto serpente No, no, non perdiamo, fidati, è di sopra Vediamo, vai Di sopra, vai, 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 vai Oh, bella questa stanza Oh, guarda cosa c'è, la rosa C'è quella bianca Proviamo a passare di qua Non lo vedo sotto Vado Ok A questa Che in pratica è quella Non lo so, era già aperta È quella bianca, dov'è quella bianca? Ti ricordi? Quella bianca ancora non l'abbiamo vista, eh Come no? No, non c'è La trappola ha messo sto maledetto Di sopra la rosa? La rosa La rosa La rosa Era di sopra, vai Lo vedi sto serpente, eh? Eh, no, non lo vedo Che, andiamo di sopra Attenzione, ma non lo vedo più Non lo vedo più? Come sono sei minuti? Forza, forza, forza Eh, sì, 5,50 È di sopra, è qui È lì È lì Ha preso uno Ha preso uno Eh, no, no Scappiamo, scappiamo Voglio che vada di sotto Eh, ma no Se viene di sotto viene da noi Maledetto sta lì Proviamoci Ci provo Vai Vai, la rosa era lì dentro Ah Scappa, scappa Apriamo la rosa Ma T'ha visto Ma chiuso Ok È lì, è lì Ciao bello, io me ne vado Andiamo Ok, bisogna ritornare di sopra, Reby Ok, però l'abbiamo già aperta, quella rosa Eh, ma lui infatti sta lì sopra Proviamo a prendere questa Sì, ma come si fa se lui sta lì? Eh, aspettiamo Eh, aspettiamo Ma questa non c'è Sì, guarda, è sceso Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio Scappa, scappa, scappa Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio Mamma, attenzione Dov'è il nostro amico? È là Allora, rientriamo da dietro No, lo va a prendere Non ci credo che il Nabbo si è fatto prendere Attenzione, torna di sopra Siamo noi contro il serpente Siamo solo noi? Siamo solo noi contro il serpente Dai, dai, andiamo a aprire tutto Magari dentro la porta di prima c'è qualcos'altro Speriamo, speriamo, Reby Vai Cosa c'è qua dentro? Vai Dai, speriamo la bianca Cos'è? La verde La verde Presa La verde era sempre di sopra, eh Rimane di sopra Sei sicura? Sì, sono sicura Attenzione Non c'è Dall'altra Ok, vai Ok Perfetto Cosa c'è qua? Cosa c'è? Lascia Andiamo su Ah, c'è il serpente lì Non serve, lascia Lascia serve Per aprire questa, guarda Il seminterrato Oh mamma La chiave rosa dov'era, ti ricordi? No No, ti prego, Reby, dai Ti devi ricordare La chiave rosa non mi ricordo dove era Ti devi ricordare, Reby, ti devi ricordare Non mi ricordo Dove l'abbiamo lasciata? È da qualche parte Quattro minuti Non ce la faremo mai Sì, sì, ce la facciamo No, ne abbiamo troppe ancora da trovare Allora, qual è la zalla? La zalla Non l'avevamo trovata Che, eccola Ciave rosa Ciave rosa, presa Vai Mamma mia, sto sudando No, perché sei tornato fuori? Eh, ma faccio un giro lungo faccio Ah, ok Va bene, speriamo che non ci sia il serpente qua fuori Ok, lo vedi? No Ci siamo? Vai Vai Siamo interrotto Di sotto Andiamo di sotto La TNT, Reby Ci siamo? Oh, se è qui abbiamo perso Dai Vai Reby, abbiamo vinto, dai Quasi, quasi Dov'è, dov'è? Non lo vedo Non c'è qui in giro Vai Oh mio Dio Facciamo sparare Vai Adesso? Esplodi Non esplode Non esplode Boom Oh, no La bianca, la bianca La bianca dove era, Reby? Era di là la bianca Oh, mamma La bianca dov'è? Dov'è la bianca? Dov'è la bianca? La bianca era dentro Sei sicuro? È là giù? No No È tornato dentro, maledetto No, è lì di fuori Reby, dov'è la bianca? Ti devi ricordare Non mi ricordo Non ti ricordi mai niente E comunque serve anche l'ascia di nuovo No, mi sa di no Eh sì, perché c'ha le armi Allora Recap Facciamo un recap Allora, quella bianca Questa e quella zalla Non si serve C'è l'ascia, vedi lì che ti serve Mamma mia, sta puntando Sta puntando Si sta inseguendo Si sta inseguendo Dai, dobbiamo vincere Reby Non sono mai riuscita a vincere in questo gioco Ma abbiamo solo tre minuti E lascia E quella bianca non la troviamo Dov'è, dov'è, dov'è Forse qua dentro No E anche qui? No Dai No, la blu La blu non ci serve Forse qua? Sì Ce l'ho Reby Vai Ce l'ho Reby Eh, attento che non ci sia Siamo sotto No, non c'è, non c'è Vai Andiamo Vediamo un po' Mamma mia Che ansia Non so se ce la facciamo eh Vai, vai, vai Attenzione Dizi che si vuole anche l'ascia? Eh sì, perché vedi che ci sono le Le quali Però lascia lì eh Lascia qui Vai Apri Te l'ho detto Te l'ho detto che serviva anche quella Lascia Eh, non ce l'abbiamo Dobbiamo andare a prenderla lì È qui, è qui, è qui È lì sopra Attento perché c'era il serpente prima Sto serpente è nabbissimo comunque Vai Ce l'abbiamo Dai Ma dov'è sto serpente? Eh, non lo so Meglio che non lo vediamo Un minuto e cinquanta Dai, dai, dai Dai, rompi, rompi Anche quella Non è che è dietro, non è che è dietro Non lo vedo Guardiamo, guardiamo Vai, vai, vai Dai Sì Sì Abbiamo vinto Bob Ce l'abbiamo fatta Sì Cos'è disse Bob? Top Ma c'è il serpente lì dietro No Andavamo riusciti a scappare Ragazzi Da noi è tutto Siamo riusciti a vincere E ci vediamo Al prossimo video Ciao